Questa è la soluzione libera che per qualche giorno l'amministrazione comunale si impegna a trovare, ma questa non è la soluzione per il dramma abitativo, non è la soluzione per il nostro amministrazione, non è la soluzione per riuscire a vivere una vita media, una vita tranquilla che ci possa permettere di prolettare il nostro futuro, oggi vi regalo questo spazio, salutiamo i compagni che hanno calato la strisciola nell'ultimo piano, questo palazzo è occupato, questo palazzo è nostro!